Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 8 ottobre, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Sale la preoccupazione per l'aumento dei contagi da Covid-19 sia a livello nazionale, sia a livello locale, sia in Trentino che in Alto Adige. E come sapete proprio da oggi c'è la grande novità dell'obbligo della mascherina all'aperto se non si è soli o se comunque non si è in compagnia di un convivente, di un congiunto, di un convivente in particolare. Ne parleremo nel corso di questa puntata di Mattino Insieme. Il nostro primo ospite, la nostra prima guida, passatemi appunto il termine, è Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Come tutti i giovedì, buongiorno Diego. Buongiorno Marco, buona giornata a tutti. Come sapete vi proponiamo già alle 7 di mattina, noi il giovedì, l'anteprima proprio di Vita Trentina che trovate in edicola. E questa mattina ovviamente non si può non parlare su Vita Trentina. E questa è l'apertura dell'enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti. Questo è il titolo di questa enciclica che ha già fatto molto parlare. Sì, è la terza enciclica di Papa Francesco. Cinque anni fa ci fu la Laudato Si che ancora merita commenti, applicazioni. Ed ora questo nuovo testo che abbiamo cercato di presentare ai nostri lettori in una sintesi, per quanto è possibile riassumere più di 280 paragrafi, otto capitoli piuttosto densi, in cui il Papa non parla solo di fraternità e di amicizia sociale, che sono i due temi indicati nel sottotitolo, ma affronta alcune problematiche anche più specifiche. Cito così a volo d'uccello quella dell'accoglienza degli stranieri, il significato della guerra, l'opposizione alla pena di morte e alla guerra, che non può essere mai giusta, e il dialogo fra le religioni, altri temi che vengono incorniciati, incardinati, dentro questo valore della fraternità, su quale il Papa cerca di fare chiarezza, perché non ci sia una lettura, come dice lui, romantica, cioè superficiale, quasi sdolcinata. Da questo punto di vista abbiamo voluto rigirare il titolo dell'enciclica Fratelli Tutti e ci siamo chiesti, ma siamo davvero tutti fratelli, e su questa domanda ho sviluppato anche la riflessione dell'editoriale. Ecco, visto che ne hai fatto cenno, te lo avrei chiesto dopo, ma analizziamo subito l'editoriale che appunto proponi questa mattina ai tuoi lettori le domande severe che interrogano tutti, così lo hai intitolato. Sì, mi è sembrato di riconoscere, leggendo con pazienza il testo, sotto traccia degli interrogativi che poi vengono rivolti a noi come singoli, ma anche alle associazioni, a chi responsabilità, nel mondo della politica, in particolare un capitolo dedicato alla migliore politica, ma anche dell'economia, della finanza, del diritto. Ho riassunto alcune di queste domande, i lettori probabilmente ne troveranno altre, ma ad esempio nel campo della politica, quando potremo recuperare questo concetto che poi è iscritto nella Costituzione del popolo, del popolarismo, che il Papa pone in alternativa al populismo. Il popolo significa attenzione al bene comune, significa far diventare la fraternità un valore riconosciuto e anche istituzionalizzato, mi verrebbe da dire. Ecco, non è un discorso confessionale, e più volte il Papa lo sottolinea, è rivolto a tutti gli uomini di buona volontà. Poi per chi crede, evidentemente siamo fratelli, perché siamo anche figli di un padre, ma anche per chi non crede, è la comune umanità che ci mette in un atteggiamento di relazione inscindibile, inevitabile con l'altro. Noi siamo in virtù dell'altro, siamo anche grazie all'altro, come va ripetendo tante volte il nostro Arcivescovo. Io consiglierei ai lettori questa enciclica, richiede un po' di tempo, si può leggere anche a spizzichi, io ho scritto che però i capitoli sono un po' come le ciliese, una tira l'altra. Il tono rimane quello quasi colloquiale, discorsivo anche in prima persona di Papa Francesco, che però lo scapisce dall'apparato delle note, in fondo riprende molti concetti che già ha detto in altre occasioni, e quindi è un'enciclica di sistematizzazione del pensiero di Papa Francesco, profondamente ispirato dal poverello D'Assisi. C'è poi, ci sono due pagine per la verità, dedicate al convegno su anziani e Covid, che è stato un convegno molto partecipato, dal quale peraltro insomma sono emerse delle cose estremamente interessanti. Era un convegno che peraltro moderavi proprio tu, no Diego? Sì, l'iniziativa è stata della Diocesi insieme all'azienda sanitaria e riprende un altro seminario che sempre lì al Vigiliano, al Polo Culturale, dove sta fra l'altro anche la sede della nostra redazione, si era tenuto addirittura il 6 febbraio in tempo pre-Covid. Allora si parlò di solitudine come problema emergente, non solo per gli anziani. Oggi, ieri si è cercato, anzi martedì, di affrontare questo tema particolare, insomma, degli anziani oggi, alle prese con quella che il dottor Cembrani, che è stato un po' il promotore dell'incontro, definisce non tanto una pandemia, ma una sindemia, con un termine che deriva dall'inglese, che fa capire che non è soltanto un incrociarsi, un sovrapporsi di un virus con altre morbilità, con altre malattie, ma che è un intreccio di relazioni anche sul piano sociale, che quindi va ben oltre la stessa pandemia. Sicuramente la portata poi di quello che stiamo vivendo la avvertiremo in modo più compiuto solo quando saremo definitivamente fuori, sempre che ci sarà questo momento, come tutti lo spieghiamo. C'è poi un ringraziamento particolare a Don Sergio Nicolli, decano di Rovereto, proprio qui a Mattino Insieme, giovedì scorso, abbiamo dato in anteprima la notizia del ritorno di Don Ivan Maffeis in Trentino e proprio del ritorno a Rovereto in particolare. Don Sergio ovviamente era molto conosciuto e molto noto a Rovereto, apprezzato. Sì, è una staffetta gradita a tutti e due, come emerge da questa intervista di Augusto Goyo, Don Sergio, che pure come Don Ivan era stato a Roma sei anni a guidare invece la pastorale della famiglia, è contento di lasciare l'opera iniziata ad un prete come Don Ivan, con cui ha molta simpatia sul piano anche dell'attenzione alle relazioni, alle famiglie, agli ultimi. È un modo per tracciare un bilancio di questi 12 anni. I Roveretani, insomma, si ritroveranno in queste affermazioni di Don Sergio, che ora va nelle giudicarie da dove proviene. Lui è di Sclemo a dare una mano con un'attenzione appunto anche alle famiglie della zona. E credo che questo numero poi Rovereto campeggia in prima pagina anche per l'intervista che abbiamo con il riconfermato sindaco Francesco Valduga. Ecco, visto che ve ne hai parlato, c'è appunto questa lunga intervista a Valduga che appunto viene sottolineato, come già avevamo detto anche noi, anche ti ricordi quando avevamo commentato le elezioni ancora prima, che le elezioni ci fossero, che Rovereto era insomma una città estremamente particolare perché c'era questa maledizione del secondo mandato, come l'ho definita io e appunto invece Francesco Valduga questo secondo mandato lo ha fatto e quindi ha vinto lui il ballottaggio di domenica. Sì, poi c'è anche una forte valenza politica sul piano delle alleanze perché queste civiche che guardano insomma a sinistra, il PD possono essere una formula da esportare per le provinciali e come scriviamo nel titolo, Valduga sembra crederci perché dice nel 2023 non mi sottrarrò, ecco non è un'indicazione di passerella verso la provincia ma sicuramente di attenzione, disponibilità a ricopiare, a clonare la formula Roveretana anche a livello provinciale. Anche perché, vabbè, non possiamo nasconderlo, sicuramente Francesco Valduga è tra i papabili a poter guidare la coalizione del centro-sinistra autonomista proprio alle prossime elezioni provinciali ma chiaramente adesso mancano ancora più di due anni, due anni e mezzo per cui forse è ancora troppo presto però questi sono un po' i rumors che circolano, no? Esatto, esatto e intanto comunque lasciamo lavorare come sindaco visto che la città tende ancora alla realizzazione di alcuni importanti progetti. Poi all'interno c'è un articolo che ti chiederei di commentare che si intitola Per un'economia che si prende cura. Ecco, ci fai qualche riflessione su questo, Diego? Sì, l'articolo riprende i contenuti che sono venuti da un intervento di Stefano Zamagni economista che a Trento venerdì scorso ha sottolineato ecco nel corso di un dibattito della settimana dell'accoglienza questo stretto legame che deve esserci tra la transizione dal punto di vista globale di un'economia nuova con quello che è la transizione antropologica come la chiama lui cioè la capacità di costruire una cultura che sia un terreno fertile su cui poi innestare anche queste novità che puntano ad evitare la supremazia della finanza e talvolta anche la supremazia della stessa economia sulla politica per riportare in capo appunto al tessuto comunitario le scelte più decise insomma e qui torniamo se vuoi anche ai temi della nostra copertina con l'enciclica Fratelli Tutti Noi siamo quasi in chiusura ovviamente ricordiamo che c'è anche il sito di Vita Trentina che è molto visitato Sì, in questo sito abbiamo anche dei contenuti multimediali ci sarà la possibilità anche di rivedere questo nostro dialogo ma abbiamo anche l'intervista al professor Zamagni che abbiamo registrato lunedì nella sua casa di Bologna un commento esclusivo che poi abbiamo girato peraltro agli altri settimanali del Triveneto all'enciclica del Papa e quindi vi invitiamo appunto a visitare il nostro sito che poi trova eco sui nostri profili social che testimoniano come oggi insomma la comunità dei lettori non sia più soltanto quella degli abbonati di carta ma sia una comunità più ampia probabilmente anche più variegata è anche a loro che auguro buona settimana Io ringrazio molto Diego Andreatta che è direttore di Vita Trentina che questa mattina ci ha guidato a interpretare un po' le notizie che troviamo sul settimanale di Ocesano ma anche altre notizie di strettissima attualità grazie infinite Diego grazie Marco a voi e buona giornata